. 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 Sentimenti, 10. Attività, 10. Finanze, 7. Beneessere, 9. Toro Non è più dalla vostra parte e per questo non sarà una delle migliori giornate, sul lavoro qualcuno potrebbe mettere le mani su un vostro progetto ma attenti, basta tenere gli occhi aperti, punto. Non vi aspettate mai nulla e fate bene in questo caso, visto l'andamento del periodo, il sangue freddo sarà indispensabile per non andare in panico, cercate di non far trasparire all'esterno tutto il vostro risentimento, altrimenti farete una pessima figura, punto. In questa giornata avrete certamente bisogno di introdurre nella vostra vita un po' di spontaneità, poiché le persone che vi conoscono non accetteranno dei comportamenti preconfezionati, ma pretenderanno da voi delle vere reazioni e dei veri sentimenti, punto. Pagellina del giorno Non dovete tenere ciò che gli altri potrebbero pensare di voi in questo giorno, se avrete bisogno del contributo intellettuale di qualcuno, non esitate a chiederlo, dovrete risolvere un problema a un vostro parente, ripone molta fiducia in voi e non potete deludirlo, punto. Pagellina del giorno Pagellina del giorno Sentimenti, 7, Attività, 9, Finanze, 9, Beneessere, 7, punto. Vergine In nuovi progetti, d'altronde le novità fanno sempre bene, i prossimi mesi saranno positivi, guardate al futuro con fiducia, punto. Venere è di nuovo a favore dei nati sotto il segno della bilancia, gli affari procedono bene e continuate così, in amore ci sarà una bella sorpresa in arrivo, punto. Cercate di sintonizzarvi sui sentimenti più intimi delle persone che amate, in modo da prendere qualsiasi decisione nel giusto quadro emotivo Non combattete contro la presunta innocenza e autenticità del discorso amoroso, possibili tensioni sul lavoro, discussioni col capo, confronti duri in una riunione, non fatevi trascinare, restate tranquilli a lavorare per conto vostro stanche e affannate, affronterete il lavoro e la vita di relazione partecipando al minimo, cosa che le vostre scarse risorse vi permettono, punto. Pagellina del giorno, sentimenti, 9, attività, 10, finanze, 7, benessere, 10, punto. Scorpione, cari scorpione, la giornata, e in generale questi ultimi giorni di marzo, sono positivi in amore Se ci sono stati litigi e discussioni con il partner, cercate di chiarirvi, sul lavoro i problemi non mancano e non potete pensare di risolvere tutto facilmente Mantenete il controllo delle vostre emozioni se volete ottenere risultati consistenti, punto. Il futuro, cari scorpione, è nelle vostre mani Riprendete in mano il progetto che avevate lasciato da parte perché vi riserverà a belle sorprese, punto. La comunicazione vi aprirà porte molto interessanti Cercate di essere disponibili, andate sempre avanti con nuovi progetti, poiché le stimoli non vi mancano Chi sta aspettando delle risposte in amore sarà accontentato, o almeno riceverà segnali incoraggianti nella direzione desiderata, punto. Le stelle in questa giornata vi sono favorevoli nel campo sentimentale, quindi non perdete altro tempo Basta temporreggiare su qualcosa che ormai è deciso e già scritto, punto. Pagellina del giorno Sentimenti, 6, attività, 5, finanze, 8, benessere, 5, punto. Sagittario, punto. Cari sagittario, vivrete ottime opportunità in amore Chi è single può rimettersi in pista e trovare l'anima gemella, fatevi trovare pronti, sul lavoro cercate di non perdere tempo, potete rimettervi in gioco e lanciare nuovi progetti, soprattutto se avete a che fare con il pubblico Date il massimo, punto. Il segno del sagittario ha la giornata perfetta per fare nuovi incontri Questo è il momento giusto per incontrare l'anima gemella tanto agognata ma guardate vicino perché potrebbe essere qualcuno che già conoscete, qualche problemino sul lavoro, punto. Oggi arriverete a raggiungere una pace interiore sufficiente ad appianare i dissidi con chi vi circonda Se siete in fermento per qualcosa che deve accadere nella vostra relazione amorosa, o in una relazione con un amico, cercate di tenervi pronti in questa giornata, poiché l'eccitazione potrebbe salire alle stelle, punto. Ci sono buone notizie per voi sul fronte del lavoro, ma non solo State facendo un buon lavoro, provate a coinvolgere di più anche chi ha poca voglia di collaborare, soprattutto se vivete in un ambiente in cui la cooperazione è importante, punto. Pagellina del giorno, sentimenti, 8, attività, 8, finanze, 10, benessere, 9, punto. Capricorno Cari Capricorno, secondo l'oroscopo di Paolo Fox, questo sarà un martedì piuttosto sottotono per il vostro segno, il fine settimana è stato caotico e ci sono stati molti problemi e litigi con il partner, sembra proprio che ultimamente non ci sia pace in amore, nel lavoro non è una giornata promettente, avete tante preoccupazioni per la testa, punto. Il segno del Capricorno a Saturno rinnonante che porterà a qualche delusione nelle amicizie Vi sentite traditi in qualche modo dalla persona a cui facevate più affidamento, novità sul lavoro, punto. Evitate di saltare addosso al vostro oggetto di desiderio, rischiate di fare una figura barbina e mangiarvi le mani dalla vergogna Non abbattetevi se il vostro capo preferirà il lavoro del vostro collega o se il vostro migliore amico vorrà uscire con un nuovo conoscente, senza di voi Cercate di solidificare una relazione di lavoro in questa giornata, poiché è importante che dimostriate proprio oggi che ci tenete a questo rapporto, punto. Pagellina del giorno Sentimenti, 5, attività, 8, finanze, 7, benessere, 5, punto. Acquario Tari Acquario, con questa luna positiva potrete agire al meglio in amore Questo vale sia per chi è single e che può ritrovare presto l'anima gemella, sia per chi ha una storia di lungo corso Nel lavoro inizia finalmente un periodo produttivo, supererete tanti ostacoli, dimostrando a tutti il vostro valore Credete e battetevi per le vostre idee, punto. Gli imprevisti sono dietro l'angolo ma con l'aiuto di Marte riuscirete a superarli nel migliore dei modi In amore potrebbero esserci disguidi quindi cercate di rilassarvi, punto. Ampliare la vostra compagnia vi darà l'occasione per provare nuove esperienze Inaspettatamente troverete una sorpresa che vi permetterà di pensare all'immediato futuro in un modo più positivo, punto. Un appuntamento a cui avevate dato poca importanza potrebbe invece rivelarsi un'opportunità interessante Ricca di prospettive future, sarete ricche di fascino, frizzanti come una coppa di champagne e nessuno oserà fermare le vostre avance sentimentali, punto. Pagellina del giorno, sentimenti, 10, attività, 10, finanze, 7, benessere, 10, punto. Pesci, cari pesci, si prevede una giornata nella quale fare chiarezza a livello sentimentale, sul lavoro gli impegni sono tanti e non riuscite a starci dietro Il problema è che non siete contenti di ciò che fate, forse dovete cambiare i vostri atteggiamenti, a volte troppo scontrosi, punto. Sarà una giornata stressante e faticosa quella di domani per il segno dei pesci Portate avanti il lavoro ma dedicate anche del tempo ai vostri hobby per ricaricare le energie e far tornare sull'umore, punto. Se siete preoccupati riguardo ad un lavoro terminato in poco tempo e senza dare troppo spazio a revisioni che permettessero di individuare eventuali errori, oggi sarebbe il giorno adatto, e forse anche l'unico, per poter rimediare Oggi dovrete lavorare molto ma otterrete anche molto, punto. Fascino abbandonante, in grado di sedurre chiunque attorno a voi Se state incerta dell'amore, questo è un giorno meraviglioso per incontrare nuove attraenti figure, punto. Pagellina del giorno, sentimenti, 5, attività, 5, finanze, 8, benessere, 5, punto. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno Ci vediamo!